Ciao My Beauty Lovers, benvenuti sul canale di My Beauty Routine Io sono Alessandra e oggi parliamo delle ceramidi Le ceramidi cosa sono? Sono delle molecole lipidiche che fanno parte delle nostre cellule Se vi piacciono i miei video vi invito a iscrivervi al canale a cliccare sulla campanella per essere sempre avvisati e ovviamente a mettere un bel like Quindi queste meravigliose molecole fanno parte della nostra struttura, delle nostre cellule fanno in modo che la nostra pelle sia in buona salute ma sono anche dei trasmettitori quindi fanno in modo che la nostra pelle rimanga bella elastica, morbida Senza di esse la nostra pelle non sarebbe in buona salute presenterebbe proprio le più comuni malattie dall'acne alla dermatite si presenterebbe appunto poco elastica, ruvida quindi sono una sostanza fondamentale per il buon funzionamento della nostra pelle per la sua buona salute Ma nello specifico a che cosa servono le ceramidi? Abbiamo detto appunto che fanno parte della struttura della nostra pelle Fanno parte proprio del film idrolipidico quindi fanno parte delle barriere della nostra pelle dello strato superficiale della nostra pelle perché sono appunto delle sostanze grasse che unite anche all'acqua e unite appunto al microbiota creano una sorta di barriera, una sorta di protezione e fanno in modo che appunto la nostra pelle si presenti in un buono stato di salute quindi elastica, luminosa e compatta Ci sono diverse tipologie di ceramidi ovviamente lavorano in combinazione quelle di cui si sente più parlare e che ritroviamo anche nei cosmetici ricchi appunto di ceramidi sono essenzialmente tre la ceramide uno, la tre e la sei più o meno le loro funzioni sono sempre legate alla difesa alla protezione della pelle se c'è una carenza di ceramide uno per esempio troviamo delle dermatiti irritative quindi più che altro a livello di prurito quindi qualcosa anche di superficiale una secchezza superficiale la carenza di ceramide tre è invece un pochino più profonda la pelle risulterà proprio danneggiata più rugosa e quindi è un tipo di ceramide che crea uno strato una barriera grassa più spessa e più resistente e questa ceramide tre spessissimo la troviamo associata alla ceramide sei soprattutto in prodotti antirughe che vanno quindi a ripristinare quella elasticità e anche la morbidezza proprio della nostra pelle capiamo quindi che queste molecole come tante altre sostanze che fanno parte della nostra pelle si deteriorano e comunque vanno a diminuire anche con il passare del tempo oppure per qualsiasi motivo che potrebbe essere anche una sorta di mappa genetica che ognuno di noi ha quindi dobbiamo magari riintegrarle con dei prodotti cosmetici nella cosmesi coreana le troviamo veramente in tantissimi prodotti la maggior parte di questi prodotti sono dedicati alla pelle secca o anche pelli normali che magari soffrono di sensibilità o anche magari a pelli proprio asfittiche ovvero pelli sì che hanno una produzione di sebo ma è una produzione di sebo irregolare quindi anche una grana della pelle molto molto irregolare come già dicevo essendo delle molecole che sono un po' come dei mattoncini come avevamo visto anche per il collagene tendono ad aiutare la nostra pelle a rimanere anche più compatta più elastica ovviamente anche l'aspetto poi sarà di una pelle più in salute più morbida e più levigata le troviamo sono appunto molecole che troviamo in combinazione con altri attivi vediamo insieme alcuni prodotti ve li lascio qui in sovrimpressione ma anche sotto nel link in cui troviamo sia ceramidi che altri attivi e combinati insieme hanno particolari funzioni c'è addirittura la linea di The Lab che ha sia ceramidi che lattobacilli quindi qui vediamo proprio che sono dei prodotti specifici che vanno a implementare le barriere cutanee per mantenere la pelle in buona salute se le barriere cutanee sono in equilibrio la nostra pelle risulterà morbida e elastica e ovviamente prodotti di questo tipo ci vanno ad aiutare anche in una strategia pro-age quindi la nostra pelle andrà a contrastare i segni del tempo anche il tempo che passa in altri prodotti la troviamo in combinazione con il pantenolo con l'acido ialuronico oppure anche con dei buri degli oli antiossidanti come potrebbero essere il burro di karité questi prodotti ugualmente non solo implementano le difese cutanee ma hanno anche una forte funzionalità idratante vanno quindi a contrastare la trans epidermal water loss quella naturale per disposizione della pelle di perdere acqua creano appunto quel film idrolipidico che fa in modo che l'acqua contenuta nella nostra pelle non evapori poi la troviamo in combinazione con prodotti esplicitamente anti-age mi riferisco a quei prodotti che contengono il retinolo sappiamo che il retinolo ha anche una piccola funzioncina di andare a stimolare il torno vercellulare stimolando il torno vercellulare la nostra pelle si rinnova le rughe si minimizzano in questo caso la ceramide va a bilanciare questo shock se vogliamo che avviene nella nostra pelle e dando quella diciamo quella spintina in più quella difesa ovviamente per promuovere l'elasticità della nostra pelle le ceramide possono essere sia vegetali che sintetiche allora quelle sintetiche sono praticamente simulano quelle umane quelle che sono come quelle del corpo umano ovviamente vengono ricreate in laboratorio e le ritroviamo all'interno dei cosmetici appunto con la numerazione appunto solitamente sono la 1 la 3 e la 6 poi ci sono le ceramidi vegetali le ceramidi vegetali sono quelle che compongono la maggior parte della struttura chimica di determinati elementi di determinati estratti per esempio l'olio di jojoba oppure la cera ad api sono essenzialmente dei composti naturali la cui composizione è prettamente fatta da ceramidi quindi sappiamo che se per esempio usiamo dell'olio di jojoba o se in una formulazione troviamo dell'olio di jojoba sappiamo che all'interno ci sono tantissime ceramidi sappiamo quindi che quella formulazione andrà ad aiutare le barriere cutanee andrà proprio a dare una emollienza al prodotto che servirà per rendere la nostra pelle elastica e morbida e avrà anche un'azione pro-age ovviamente come questo attivo lo troviamo nei prodotti per il viso lo possiamo ritrovare anche nei prodotti per i capelli la nostra linea ad esempio la rehab di my beauty ritual hair care va proprio a un'azione ristrutturante del capello ed è composta da ceramidi che vanno appunto a dare morbidezza a dare fusto e corposità alla capigliatura oppure ritroviamo le ceramidi anche nei prodotti per il corpo soprattutto quando abbiamo una pelle che tira una pelle che magari anche in inverno potrebbe presentare dei pruriti o si spella ecco lì magari forse è un primo segnale che la nostra pelle sta perdendo le ceramidi allora cosa dobbiamo andare a fare a ricercare una crema che non necessariamente è una crema pesante grassa e untuosa ma comunque al suo interno se magari ha una buona combinazione di ceramidi magari un burro di karité oppure magari anche dell'acido ialuronico allora troveremo un prodotto che dà subito immediato sollievo e con l'uso costante va un pochettino a riparare e a proteggere le barriere cutane la nostra pelle risulterà appunto più liscia più levigata più morbida e anche quella sensazione sgradevole comunque di prurito o comunque una sensazione di secchezza di pelle che tira andrà annullata dal potere di queste meravigliose molecole lipidiche bene my beauty lovers abbiamo visto un attivo molto importante della cosmesi coreana molto importante per la nostra pelle spero che questo video vi sia piaciuto se vi piacciono i miei video vi invito a iscrivervi al canale a cliccare sulla campanella per essere sempre avvisati e anche a mettere un bel like vi aspetto al prossimo video un bacione a cliccare a cliccare a cliccare a cliccare a cliccare a cliccare